Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Abbiamo abbandonato le macchine, abbiamo abbandonato le macchine. Dove li vediamo? Su Youtube, ci sono le riprese originali. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie